Mentre registro siamo a sabato pomeriggio, sono circa le 4 e 20, 4 e mezza, i giornali danno la notizia del crollo in campo del calciatore Pier Mario Morosini, Corriere Online dice crolla in campo, gravissimo Morosini, arresto cardiaco, shock in serie B, Maloria Pescara per il calciatore del Livorno, dunque si parla di condizioni gravissime ma se poi noi ci trasferiamo direttamente su Wikipedia che è sempre molto attenta e segue gli eventi di minuto in minuto troviamo già nella cache di Google praticamente la morte di questo ragazzo Pier Mario Morosini potete già leggere Bergamo 5 luglio 86, Pescara 14 aprile 2012, è stato un calciatore italiano dunque si parla già al passato prossimo sulle pagine di Google, se però poi andiamo a controllare la pagina attuale di Pier Mario Morosini su Wikipedia è già stata rinfrescata e c'è scritto questa voce o sezione tratta eventi in corso o di immediata attualità, dunque troppo affrettati hanno voluto far morire questo ragazzo per il quale ci auguriamo le migliori sorti possibili, dunque come a voler dire che spesso anche in rete fonti autorevoli come Wikipedia non sempre si rivelano attendibili, dunque bisogna stare molto attenti a selezionare le informazioni che arrivano in rete proprio perché purtroppo sciacalli e gente che vuole mettersi in mostra e che è disposta a tutto spesso inseriscono informazioni false o comunque taroccate e dunque questo contribuisce a togliere credibilità a questo potente mezzo che è appunto Internet che purtroppo lascia traccia di tutto quello che viene immesso, vero o non vero che sia. Ho aperto con questa notizia molto vicina purtroppo alla morte di una persona proprio perché purtroppo i suicidi sono di attualità e come saprete la crisi economica sta seminando molti morti in giro per l'Italia e non soltanto, ci limitiamo alle notizie di oggi che provengono dall'Italia. L'imprenditore si uccide in provincia di Ragusa, è un 42enne anzi un 28enne che lascia moglie e due figli in difficoltà, un imprenditore agricolo che si è appunto impiccato e invece a Sesto Fiorentino un 42enne si è gettato sotto un treno, stessa fine che ha fatto un quindicenne ieri a Moncalieri nella cintura di Torino. Notizie brutte che non mi sento di commentare ma che quantomeno vale la pena segnalare perché gli suicidi purtroppo sono un'escalation tragica di questi giorni legati alla crisi, il tragico bilancio della CGA di Mestre, già 23 suicidi nel 2012 legati alla crisi economica, di questi 9 soltanto in Veneto, regno della piccola e media impresa. Dunque siamo ormai all'indomani del periodo pasquale, in questo aprile 2012 nel quale gli eventi traumatici del vecchio modello economico legato al capitalismo incalzano, i giornali legati a questa forma di capitalismo parlano ovviamente di allarme, registrano gli eventi in borsa, anche oggi per esempio un quotidiano a caso, Repubblica, effetto Spagna, crolla la borsa, IMU pagamento in tre rate, dunque si incolpa la Spagna, si rievoca lo spettro del default di questo paese, una delle economie pesanti dell'Europa che trascinerà anche l'Italia in una continua altalena al ribasso che vede cadute improvvise, timide riprese, cadute improvvise, timide riprese, comunque dicevo sempre il ribasso con titoli bancari che vanno sempre più giù, titoli bancari che legano gli interessi di questa forma di informazione, di questo tipo di informazione, vecchio stampo legata ai giornali e agli editori, legati ai vecchi modelli economici che si sono arricchiti, che hanno avuto la fortuna o anche la bravura di arricchirsi negli anni che furono e che sono diventate autentiche potenze, amici un pochino massoni tutti questi ricchi, amici dei loro amici a loro volta di questa elite ricca che deve registrare dunque l'aumento del disagio sociale legato alla povertà crescente e l'aumento del debito in un circolo vizioso da cui non si esce più e dunque che andrà rivisto certamente non prima secondo me di aver passato, periodi certamente turbolenti che si stanno già registrando in Grecia, in Italia, vuoi con i suicidi, vuoi con le rivolte di piazza, vuoi per gli esodati che sono questi prepensionati giovani che credevano di poter andare in pensione prima e di dover attendere sei o sette anni sostenuti dallo Stato con un sussidio che invece non hanno più e dunque si ritrovano già in età avanzata, senza lavoro e senza nemmeno la prospettiva di una pensione, che si sommano i precari, i giovani che vanno all'estero, che si sommano a tanti lavoratori, anche quarantenni con famiglia che si ritrovano senza lavoro e che dunque affrontano proprio la povertà assoluta che non riguarda solo i privilegi, perché non dobbiamo pensare che il telefonino sia un privilegio o la macchina di 10 cavalli in più sia un privilegio, semplicemente è un adeguamento ai tempi che contano e semplicemente il ragionamento da fare è che se uno lavora 8-10 ore al giorno e mette a disposizione tutto questo tempo, il suo tempo per lavorare e che quindi gli impedisce di fare altro, si presuppone che il guadagno sia commisurato e proporzionato quantomeno al costo della vita, che gli possa garantire una vita dignitosa chiaramente. Questo non è possibile in quanto sapete che lavorace macchina politica dei partiti e dei finanziamenti è troppo gravosa e quindi tutto questo ha portato e ha aggravato i bilanci familiari perché le tasse aumentano in continuazione per mantenere questo status di questa gente come i leghisti che hanno continuato ad abbuffarsi a Roma ladrona di rimborsi elettorali come del resto tutti i partiti e che nel frattempo li hanno usati insomma per farsi loro porci comodi. Sempre i giornali dicono che gli immobili intestati alla moglie di Umberto Bossi sono diventati improvvisamente 18. Poi Curzio Maltese per esempio il venticello del perdonismo fa ancora una sua analisi di questo periodo di Tangentopoli. Ieri ha parlato di Beppe Grillo associandolo all'Umberto Bossi di primo pelo, dunque l'Umberto Bossi rivoluzionario che abbiamo imparato a conoscere nei primissimi anni 90 che si opponeva al sistema, che già aveva denunciato e che denunciava il sistema partitocratico delle tangenti, se non che poi Bossi si macchiò subito dopo, venendo scoperto come destinatario di una tangente, della max tangente Enimon, grazie alla pirlata di Patelli che lo indusse a restituire quei soldi, ma fu un episodio che lo sputanò, Bossi in quel periodo e oggi Curzio Maltese paragona e addirittura a livella Bossi a Grillo di oggi che invece di finanziamenti non ne prende, giustamente si paga il suo tour elettorale, chiede sostentamento giustamente alla rete con dei contributi, con dei libri anche per il blog e da leader politico che ci mette solo la faccia sta girando le città riscuotendo davvero un ragguardevole successo, mentre gli altri partiti dove si tengono le amministrative continuano a registrare affluenze molto timide da tre gatti nei vari appuntamenti e vari convegni, Grillo continua a riempire le piazze. Dunque, venerdì nero sui mercati, crollano Milano e Madrid, alta tensione sugli spread, Monti annula la missione a Washington per il G7 e il G20, dunque questo impegno del Presidente del Consiglio di metterci la faccia e di portare l'Italia, cercare di rinverdire l'immagine italiana all'estero funziona a metà, proprio perché i mercati, vecchio stampo, continuano a non dare fiducia a questi provvedimenti che il governo ha adottato, in quanto effettivamente non ci sono tagli alla casta e c'è un aggravio sulle famiglie delle tasse che quindi contribuiscono e provocano un ulteriore rallentamento di consumi, che sono proprio quei consumi tanto cari a quella forma di capitalismo finito e che dunque rispecchia un mondo passato che ha chiuso un ciclo e che dunque dovrà essere rivisto anche in funzione delle economie future, in funzione anche degli assetti politici e sociali che andranno delineandosi in questo periodo in cui stiamo vivendo una rivoluzione senza precedenti che nessuno sa bene dove porterà. Si fanno tante considerazioni, guerra civile, povertà, rivolte, ripresa. Abbiamo capito tutti che siamo di fronte a una rivoluzione senza precedenti che coinvolge l'Europa che è un po' intanto il cuore di tutte le civiltà perché dall'Europa sono emigrati tutti verso l'America, sono emigrati anche verso l'Asia, dunque l'economia europea è stata esportata all'estero, benché l'Asia oggi sia un paese in crescita ma su modelli economici, diciamo così, di stampo europeo, quindi stanno percorrendo i paesi in crescita asiatici, anche se la crescita è contenuta, su un sentiero già battuto dall'Europa in passato. L'America vive la sua fase di default o comunque di difficoltà, benché ci sia stata una timida ripresa di posti di lavoro, però sapete che anche l'America continua ad accumulare debiti e dunque tutto questo si ripercuote sulle economie mondiali e dunque l'Europa continua a essere, diciamo così, il traino, continua a essere un passo avanti rispetto al resto del mondo, cioè quello che accade in Europa viene osservato in Asia, viene osservato in America e dunque la recessione europea che contribuisce a creare recessione in Cina da un lato e anche in America dall'altro, crea uno scenario inedito che non piace a questi economisti vecchio stampo e che dunque si prefigurano, immaginano come si potrà continuare a detenere il potere e il controllo delle masse. Anche qui è un bel punto interrogativo perché con l'avvento di Twitter, della rete, dei social network e l'immediatezza delle notizie che circolano con grande lucidità e con grande immediatezza in tutto il mondo non faranno altro che contribuire a far vedere come la politica concepita fino ad oggi sia arretrata rispetto a quello che i cittadini oggi possono fare partecipando direttamente in rete con la loro coscienza di cittadini in grado di pensare e di scegliersi le loro fonti. Napolitano, gli speculatori non meritano l'Italia, a dire il vero più che speculatori Napolitano si riferiva agli evasori fiscali, dunque a cominciare da Berlusconi, non meriterebbe di essere italiano visto le sentenze che riguardano i processi Oliverian, soldi nascosti all'estero, miliardi e tutta quella cricca che oggi si ripara dai processi legati alla corruzione, all'evasione con leggi che sono riusciti ad arginare il pericolo che questa gente si faccia a 20 o 30 anni di galera per aver truffato la collettività. La paura del professore, una paluda di veti incrociati, sto qui per salvare il paese, continuo a cercare di salvarsi la faccia Monti, mentre in attesa dell'Imu, di questa tassa, di questa ICI rivista nessuno sa bene come sarà pagata perché andrà a gravare sui bilanci delle famiglie, si prevedono tre rate perché sarà una bastonata, vogliamo credere e ritenere che entro giugno ci sarà una revisione di questa imposta e che potrà essere magari non ritoccata proprio tenendo conto delle difficoltà delle famiglie, che è vero che sono in difficoltà, però ce ne sono anche molte che lamentano difficoltà ma in realtà non lo sono perché hanno evaso il fisco prima, si sono messi via i soldi e oggi questi soldi li stanno usando per andare avanti, magari dal lavoro hanno poco, non guadagnano abbastanza, c'è recensione, comprano di meno ma stanno praticamente utilizzando i soldi che magari prima hanno guadagnato, non dichiarandoli al fisco e che però quindi lamentano difficoltà e poi c'è una quota sempre maggiore di famiglie che quella riserva l'hanno già utilizzata e quindi ricorrono a prestiti, a debiti, non pagano più i mutui e ovviamente è tutta una situazione in divenire che porta sempre più allo scoperto, molte famiglie in difficoltà però ce ne sono altre che invece hanno accumulato talmente tanto che la crisi ancora non la sentono, esodati in piazza, ci hanno preso in giro, i sindacati contro il governo, secondo l'Inps sono 130 mila in uscita nei prossimi 4 anni, dunque questi famosi lavoratori già attempati che truffati dall'idea di essere sussidiati pur di non lavorare e di arrivare alla pensione in realtà non prendono più nel sussidio e dunque senza sussidio non potranno neanche avere la pensione tra un po' di anni. Dunque tema lavoro ovviamente di grande attualità, qui vi dicevo prima l'Imu pagata in tre rate, comuni devastante per noi colpiti gli anziani negli ospizi, Bersani che insomma arriva a dire una patrimoniale sui ricchi per ridurla, cazzate, di questo minicchio di un partito finito e poi si parla ancora di tassa sulle disgrazie, non sa più cosa inventarsi per cercare di contenere la disgrazia di questo Paese, poi un articolo che riguarda il Ministro della Giustizia, la Severino, la mia riforma non è a favore di nessuno, la guarda sigilli risponde alle critiche, ma PD e PDL sono sul piede di guerra, protesta l'ANM, insomma si tratta di inserire, di recepire dei reati a livello europeo che taglierebbero le gambe a corrotti, corruttori e quindi metterebbero nei guai, di fatto questi grossi pezzi dei partiti politici già indagati o prescritti e dunque finché possono non mollano e cercano di frenare la Severino su questo fronte. Lega Nord, Maroni va da Formigoni, via l'assessore amica del trota, per assessore amica del trota si intende Monica Rizzi, Bresciana della Valle Camonica, nominata assessore dell'agricoltura come cambio di favore per aver sostenuto il trota e aver rinunciato lei stessa alla candidatura alle regionali del 2010, indagata, lei dice non più, però insomma fino a poco tempo fa certamente indagata per aver creato falsi dossier, aver cercato di sputtanare gli altri candidati per favorire Renzo Bossi durante le campagne elettorali, una mossa simile a quella che si lamentava alla P3, ai danni dell'ex candidato Caldoro in Campania che hanno cercato di dossierarlo facendo credere che andasse coi transe, quindi sulla scia di quello che era già caduto a Marrazzo per sputtanarlo e per favorire Nicola Cosentino, ritenuto il cartello della Camorra in Parlamento dai casalesi, salvato più volte in Parlamento sia dall'arresto che dall'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, dunque la Lega sullo stesso filone del PDL, almeno per quanto riguarda la Rizzi durante quel periodo delle campagne elettorali, Maroni che continua ad apparire come nuovo leader della Lega Nord e qui la Procura che chiede alla Guardia di Finanza di acquisire i conti di Balocchi, il compianto tesoriere della Lega Nord sostituito da Francesco Belsito, come sapete indagato in questa vicenda dei rimborsi elettorali sulla fine che hanno fatto questi soldi della Lega, si parla di milioni, utilizzati per i capricci della Bossi Femini, utilizzati per i capricci degli amici e per sostenere spese pazze anche per missioni al Polo Nord con l'ampolla dell'acqua del Po e poi ville, appartamenti, cascine e terreni, 2018 proprietà della Modio del Senatur, la famosa marrone siciliana, trapiantata in Lombardia di cui vengono raccontate le geste, tutti questi passaggi di proprietà, questi acquisti di media uno all'anno che non si capisce bene con quali soldi e perché, se non con i rimborsi elettorali, quello che prende i rimborsi lo uso per comprarmi queste case, questo è un po' il quadro che si va profilando, dunque questa donna in un mix di ritrosia siciliana affondata nella cosiddetta grande attivismo lombardo, se vogliamo inquadrarla in questo modo, quindi destinatari al somme degli interessi di Bossi, nuova bufera sulla sanità lombarda, ex assessore in manette per fondi neri, come saprete è stato arrestato, Simone che fu assessore in regione Lombardia nei primi anni 90, nell'epoca precedente a Formigoni e nell'epoca successiva a Golfari, Cesare, che era stato governatore della Lombardia nei primi anni 80, iscritto alla P2, però era solo iscritto ma non è mai stato citato, non è mai stato un cicchito, un berlusconi o un gelli, fatto sta che questo ex assessore è arrestato per la distrazione di 56 milioni di Euro dalla fondazione Maugeri, l'istituto di Pavia, un'indagine nata dagli accertamenti sul crack del San Raffaele, di cui sono morti i suoi trafficoni, Mario Cal che si è sparato nell'ufficio e Don Luigi Verze che ha fatto una fine secondo me molto simile a Luigi Sindona, morto dalla sera alla mattina, era un pimpante vecchietto morto così all'improvviso di cui non si sa niente, non si sa nemmeno se ne ha fatto l'autopsia, indagine che si allarga non solo a San Raffaele e dunque all'istituto Maugeri che coinvolge questi lestofanti di comunione e liberazione molto vicini, amicissimi anche di barca di Roberto Formigoni, sono tutti in galera tranne lui, manca davvero solo lui all'arresto e milioni distratti secondo i PM per fare investimenti all'estero, dunque sottratti al fisco, dunque eventualmente per napoletano italiani indegni e ancora un articolo che riguarda D'Acco, il suocero dell'ex assessore Buscemi, sempre di Formigoni, pagò D'Acco, è uomo di Formigoni, la rete dei faccendieri vicini a comunione e liberazione sul business delle cliniche private e tra le finte super consulenze spunta uno studio sulla vita su Marte, ecco una delle motivazioni di queste consulenze erano queste motivazioni fittizie di cooperative e cooperazioni per indagare per esempio sulla vita su Marte, forse perché volevano nascondere i soldi là, per essere sicuri di non essere visti, però insomma tutto questo fa parte proprio di un sistema di corrutele, di ruberie, cioè ladri in giacca e cravatta che hanno cercato di usare il metodo formalmente legale per sottrarre a più non posso e oggi hanno dalla loro parte le leggi dei governi berlusconi che tra prescrizioni, tra depenalizzazioni, tra attenuanti e tra una serie di porcherie rischiano seriamente di farla franca. Vi risparmio l'argomento della legge elettorale in quanto non interessa a nessuno in questo istante in cui i partiti sono ai minimi storici di popolarità, veniamo a Scaiola, ex ministro inconsapevole, Scaiola è la casa del Colosseo, con falonieri si occuperà delle tv, Berlusconi penserà ai giornali, questo articolo riprende e si riprende l'inchiesta di Imperia sul porto cittadino i cui costi sono stati decuplicati, costi che sono stati alla lente della procura di Imperia, i cui magistrati hanno ordinato l'arresto di Francesco Bellavista Caltagirone che in un giorno in cui è capitato a Imperia per un appuntamento con il sindaco Strescino del PDL è stato arrestato sui due piedi nel municipio, portato in carcere e ancora in carcere Bellavista Caltagirone in quanto ritenuto a capo di questa cupola che ha fatto lievitare i costi della costruzione del porto di Imperia portandoli da 30 milioni a 250 milioni, quindi quasi decuplicati. Scaiola ha indagato anche lui in questa inchiesta per associazione a delinquere e dalle intercettazioni viene fuori tutti i rapporti che Scaiola aveva con Bellavista Caltagirone e altri interessati a questo porto e ai quali diceva vieni da me che ho una stanza schermata dove possiamo parlare Scaiola e dunque cercava di non far sapere i tramini in ballo per giustificare gli aumenti di questi costi, almeno questa è l'impressione. Dunque le telefonate tra il politico e Bellavista Caltagirone, telefonate tra Scaiola e Bellavista Caltagirone, quegli aiuti promessi nelle intercettazioni dell'ex ministro Scaiola, mentre si sa che Diego Anemone, colui che ha pagato praticamente per mano di Zampolini buona parte dell'appartamento con vista sul Colosseo a Scaiola, i magistrati della Procura di Roma, gli hanno sequestrato 32 milioni di beni immobili a Diego Anemone, quindi uno dei famosi appaltatori d'oro dietro regali e compensi nell'inchiesta del G8, negli appalti, nei grandi appalti di Stato e anche nella compravendita di immobili legati a propaganda fide che fa molta soviglianza con propaganda 2, in cui è inquisito anche il Cardinale Sepe di Napoli. La ditta fallisce, si lancia sotto il treno un altro mandizio al suicido per la crisi, vi dicevo la crisi e i suicidi sono purtroppo l'argomento che ho utilizzato per aprire questa edizione di contatto e che ho utilizzato purtroppo per chiudere. A Firenze da gennaio 18 casi, Feder Contribuenti, lo Stato fa stalking, ecco la sensazione che tra i 23 denunciati su affari italiani, i famosi 23 suicidi e i 17 e 18 denunciati in Toscana, la sensazione è che siano molti di più purtroppo questi suicidi della disperazione di fronte ai quali lo Stato non fa niente, lo Stato è latitante e rappresentato da partiti e da dei vermi di fatto che cercano di continuare a pararsi il culo con i rimborsi elettorali, cioè di difendere i loro interessi perché non ci sono alternative per questo Paese fallito, sapevano che saremmo finiti in questa situazione, hanno rubato o più non posso e adesso chi ha avuto o avuto, chi ha dato o ha dato, sono cavoli dei cittadini che non hanno saputo cogliere gli affari e che si sono fidati delle scemenze che gli ha raccontato in TV per anni dicendo che tutto andava bene e chiudo dunque questa edizione ancora con un refresh sulle agenzie alle relative alla notizia di Morosini, questo calciatore di Serie B crollato in campo, si continua a dire Serie B il dramma di Morosini, arresto cardiaco è in coma, mentre come vi dicevo poco fa ancora cercando su Google, digitando il nome del calciatore, appariva su Wikipedia che veniva già dato per morto appunto prima del tempo, questo per dirvi come l'attendibilità delle fonti a volte anche autorevoli come Wikipedia a volte non lo siano del tutto, grazie ci rivediamo nei prossimi giorni con qualche intervista interessante che riguarda i problemi del nostro tempo e per ora buon fine settimana a tutti!